carissimi amici buon pomeriggio a tutti voi oggi voglio soffermarmi in particolar modo sul vangelo abbiamo ancora l'evangelista giovanni e il suo vangelo che ci accompagnano in questo tempo di preparazione alla pentecoste e giovanni a un certo punto dice ricorreva in quei giorni a gerusalemme la festa della dedicazione era inverno e gesù camminava nel tempio nel portico di salomone allora i giudei si fecero attorno e gli dicevano fino a quando ci terrai nell'intertezza tu sei il cristo dillo a noi apertamente gesù rispose loro ve l'ho detto e non credete le opere che io compio nel nome del padre mio queste danno testimonianza di me ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io e il padre siamo una cosa sola ecco ancora oggi questa parola del pastore fa breccia nella nostra vita possiamo dire che la liturgia già da domenica ha incominciato a presentare questa figura di gesù pastore che sembra non volerci abbandonare ma volerci accompagnare questo pastore lungo questa settimana quasi a rafforzare ancora di più la presenza di questo pastore nella nostra vita gesù è l'unico pastore che ci parla le mie pecore ascoltano la mia voce le mie pecore sono tra virgolette mie perché ascoltano la mia voce l'ascolto e l'appartenenza e una realtà fortemente connessa sembrerebbero due facce facce della stessa medaglia questo pastore ci conosce ci dà la vita eterna ci custodisce opera per noi azioni concrete noi siamo l'unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di ascoltare la sua voce non chiede alto il pastore mentre con amore egli invece scruta la sincerità del nostro cuore e da questa continua intimità con il nostro pastore da questo colloquio con lui ascoltiamo lui parla a una voce con un timbro particolare che il timbro della tenerezza della misericordia della carità da questo ascolto e da questo colloquio cuore a cuore come è stato quel colloquio quel giovedì santo in quella cena quando giovanni non ha detto una parola ma ha messo il suo capo sul cuore del maestro e ha parlato con il maestro e da questo colloquio scaturisce la gioia di seguirlo lasciandoci condurre alla pienezza della vita eterna noi nonostante la vita sia complessa la gioia nel cuore si fa breccia solo e soltanto quando noi intessiamo quotidianamente questo intenso colloquio tra la pecora e il pastore e il brano si conclude io e il padre siamo una cosa sola arriviamo al padre quando passiamo per il pastore e il pastore è la porta ce l'ho detto ieri è la porta del cuore del padre a volte noi facciamo delle distinzioni fortemente razionali fortemente umane ma in questo grembo della trinità dove il padre accoglie il figlio il figlio lo spirito lo spirito il padre e tutti e tre si auto accolgono noi entriamo attraverso questa strada la via gesù la porta gesù la vita gesù buon pomeriggio a tutti voi